L'estate 2021 rilancia la vera canzonetta dei rioni con brani inediti che vedranno sfidarsi i vari gruppi in gara. È una delle novità della sesta edizione di Canzonissima di Carnevale che lunedì 30 agosto alle 21.15 andrà in scena per la prima volta in trasferta nell'area Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Nove rioni in gara con altrettanti brani inediti per un'edizione che vede una novità sostanziale rispetto a quelle che l'hanno preceduta. Abbiamo deciso addirittura di raddoppiare, faremo sia la canzonetta dei rioni sia il galà di fine carnevale, quindi un raddoppio già dell'impegno e questa è già una grandissima novità. All'interno della canzonetta dei rioni c'è la novità sostanziale della divisione dei premi. L'anno scorso vinceva il rione, quest'anno si vince sempre attraverso i rioni ma con la canzone che verrà premiata con il coriandolo d'oro offerto da Oro Più e il premio per la migliore scenetta o comunque performance artistica che sarà il premio Angiotta De Oli in memoria appunto di uno dei grandi della canzonetta del Carnevale di Viareggio degli anni 50, 60 e 70. Come per la canzonetta dei rioni anni 80 ci sarà per ogni rione un'esibizione complessiva di 10 minuti in cui verrà presentata una canzone per la prima volta inedita e una performance artistica, balletto o scenetta teatrale.